Questa è la seconda edizione di I-Pop Festival, quest'anno nel 2018 riproponiamo il BIS, come si concede solitamente in musica e siamo lieti di annunciarlo con il patrocinio del Comune, in particolare grazie all'assessore Marietta Giordano per l'assessorato all'innovazione e alle politiche giovanili e chiaramente con il patrocinio morale di ARC, associazione regionale Cori Campania e ovviamente da non tralasciare il contributo e la collaborazione dell'AIL Salerno, sezione Marco Tulinieri, a cui andrà il ricavato della serata. Tutto va bene per raccogliere fondi, per sensibilizzare sull'operato dell'AIL? Sì, e noi facciamo di tutto per alleviare i pazienti, i medici dal loro lavoro quotidiano. L'AIL è a fianco ai reparti ematologici, ma siamo a fianco nel senso che cerchiamo di migliorare la qualità. Noi abbiamo i due reparti di ematologia che sono due reparti di eccellenze, ma li sosteniamo. Attualmente abbiamo circa 13 borse di studio tra data manager, biologi, psicologi, tutte figure che la struttura pubblica non è che li dà così facilmente, specie per i data manager che poi loro seguono gli studi clinici e quindi la ricerca. Noi sosteniamo il tutto per migliorare la qualità e soprattutto per i pazienti. Seconda edizione di questa rassegna, sostenuta dal Comune per raccogliere fondi per l'AIL? Sì, la seconda edizione, la prima andò benissimo, si fu una bella risposta dai cittadini salernitani, dalla sensibilità dei cittadini salernitani e poi lo spettacolo fu veramente piacevole. Vedere l'impegno di un coro di 30 ragazzi presente da 4 anni sul territorio, che veramente ha fatto passi da gigante, non può che inorgogliere la città di Salerno, ma soprattutto la stessa rasse alle politiche giovanili perché sono tutti ragazzi under 35.